Ancona, Fiera della Pesca, domani il grande convention Marche 2020, Udc, nuovo centrodestra per la nascita di questa area moderata per le elezioni regionali. Esattamente, come avevo già detto, domani ufficializzeremo questo rapporto, questa coalizione che si creerà fra Marche 2020, il partito delle Marche e area popolare, che comprenderà Udc e Ncd. È il coronamento di un discorso che abbiamo intavolato in tempi non sospetti alla luce del sole, senza accordi di potere precostituiti nelle segrete stanze. Ci siamo riuniti incondizionatamente attorno ad un tavolo per parlare di temi concreti. Domani sarà sicuramente l'inizio di una nuova pagina politica che vedrà Marche 2020 ed area popolare protagonisti della nuova giunta regionale e del nuovo andamento della regione Marche.